Allora, non so nemmeno da dove cominciare e come trattare questo tema, siccome comunque è molto delicato e soprattutto nel mio canale io non ho mai fatto video seri e questo è il primo, per favore cercate di capirmi, ascoltarmi, ciò che mi è successo comunque è abbastanza incredibile, non me l'aspettavo e siccome ormai voi fate parte della mia vita rivedo un po' come la mia nuova famiglia, penso che sia giusto dirvi ciò che mi sta accadendo Allora, veramente, scusate un attimo Io spero che comunque voi ragazzi possiate prendere un esempio da me perché non è una tematica facile, quindi sono argomenti molto difficili da dire, so che molti di voi non capiranno la mia scelta e è accaduto tutto così proprio a caso, senza che io ne fosse corrente, però se sei uomo le tue responsabilità te le prendono e niente, è inutile girarci attorno a questo giro secondo me è meglio arrivare direttamente al punto e ciò che volevo dirvi purtroppo è già andato in giro l'ho raccontato ai miei amici più stretti, però purtroppo in questo mondo non puoi fidarti di nessuno siccome dici una cosa a una persona e il giorno dopo la sarà altra e quell'altra persona la dirò ad un'altra persona e quindi diventerà un giro di catene e nulla, voglio solamente dirvi che io sono più fresco del mondo e non c'è no game, in questa siena non c'è game cioè guardate, trecine, la fascetta, nessuno le indossa, bici, cannottina bianca, pantaloni in tinta, bici ma aspettate, no game, come ho detto no game, ciò che devo dirvi appunto è che sono più fresco, bici qua non si scherza, bici, non si scherza incredibile, incredibile non so cosa dire sto male, sto male il recent gentleman fucking fresh, ok, va bene guardate, imparate lo stile custom, mi raccomando, non copiate, non rubate il mio stile se non c'è stile, tieni, guarda, mi stacco un po' da me, tieni, prendilo, prendilo dato che c'è molta gente senza freschezza o ha deciso di condividerla con voi ora me la tolgo un po', tieni, tenete tutti a prendere un po' di freschezza un po' di dream non fa mai male, tieni, tieni, così magari di notte scopri anche i filmi tieni, venite ancora un po', incredibile, incredibile, bici ciao 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 ciao